Bentornati, bentornati a tutti amici. Oggi dopo tantissimo tempo torno a fare un video a sfondo sociale, avrei voluto farlo in macchina, purtroppo come sapete da ormai un anno praticamente è stata rottamata la mia vecchia macchina con cui, perché è stata distrutta, la macchina con cui facevo quei videaci, e quindi oggi lo dobbiamo fare da questa umile postation. Oggi è un argomento del video molto molto importante, in generale tematica soldi, carriere lavorative, prospettive di vita e costrutti sociali che poi si creano e vanno a influenzare scelte, e quant'altro è un argomento a me molto caro perché in primis mi riguarda direttamente, Insomma, è un argomento su cui rifletto da, penso, da quando ho iniziato l'università praticamente, o anche prima addirittura, perché poi gli scenari immaginari lavorativi li ho già immaginati prima. E voglio anche un attimo soffermarmi soprattutto sull'argomento soldi e quant'altro, che al giorno d'oggi è vivissimo. Voglio partire da qui, ho sentito l'altro giorno, ho visto una clip del ragazzo che dirige il podcast, quello lì, adesso non mi viene il nome, si chiama Gazzoli, mi sembra Gianluca Gazzoli, lo seguo anche, non mi ricordo bene, Gianluca Gazzoli se non sbaglio. E ha detto una cosa veramente giusta e bellissima, secondo me, che questi podcast che nascono di continuo, che parlano solo di soldi, di fatturati, di solo soldi, 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 e quella carriera per arrivare al massimo, per guadagnare soldi, 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 questi podcast contribuiscono a costruire una visione della realtà che è estremamente tossica, estremamente pericolosa anche sotto certi aspetti. Non mi piace, non mi piace onestamente questa piega che sta prendendo YouTube, questa piega che sta prendendo la società odierna, e secondo me si stanno andando veramente, guardate, lo dico non come luogo comune, ma perché io su certe tematiche ci rifletto in modo molto profondo, e ho fatto anche un percorso su queste cose, su tematica finanziaria, soldi e prospettive e quant'altro. Cioè io sono partito a fine liceo, che ero convintissimo di voler andare a lavorare in una banca di investimento, perché dopo totta avevi tot soldi, in quegli anni, spoiler, non vivi, infatti io sto facendo la tesi di laurea proprio perché voglio parlare di queste tematiche anche a livello proprio accademico e denunciare certi episodi. Per chi non lo sapesse, questi lavori nelle banche di investimento hanno delle grandi banche di investimento, perché poi anche lì dipende dai livelli a cui uno vuole ambire, ma le posizioni più ambite comportano settimane lavorative di 90-95 ore, lavorando quindi tutti i giorni della settimana, weekend compreso, sino a notte fonda, robe assurde, con picchi anche di 100-110 ore lavorative, cioè praticamente tu per avere un tot soldi e una carriera, la carriera prestigiosa, baratti tot anni della tua vita, ma che siano due, che siano cinque, che siano dieci, io personalmente, riflessione personale, non baratterei mai anni della mia vita, mai anni della mia vita. E sto facendo la tesi di laurea su questa cosa qui perché veramente bisogna poi andare a parlare con le persone interessate e dirgli chiaramente ma tu vuoi una famiglia? Sì, no. Già se uno che vuole andare a fare investment banking ti dice sì, voglio una famiglia, vabbè, poi per carità, 50 anni si può sempre prendere magari con 10 milioni la ragazza 30enne e aver la famiglia, ok? Un po' distante dalla mia visione, ma tutto è lecito, tutto è lecito. Ma questa ossessione veramente per i soldi, io, attenzione, adesso non mi fate entrare in discorsi di similcomunismo, robe strane che non ne appartengono assolutamente e quali sono anche abbastanza distante per molti aspetti. Però, però veramente, cioè, ragioniamoci, cioè non è normale che ad oggi su YouTube basti fare un podcast sui soldi, parlare di soldi e poi è anche brutto perché se qualcuno mi dicesse è un podcast sui soldi finalizzato al X questo quest'altro e tutta questa roba di podcast affiancata da questi venditori di corsi che parlano anche lì sempre solo di soldi contribuisce veramente a creare una realtà delle dinamiche molto, molto brutte, che però rispecchiano le dinamiche attuali, cioè di gente che va a fare X carriera, X cosa senza sapere realmente, realmente il perché. Cioè, secondo me, ho sentito anche quest'altra frase molto bella, che non mi ricordo chi avesse detto, che l'obiettivo va scritto a penna, penna indelebile, il percorso a matita. Questo cosa vuol dire? Che l'obiettivo, per quanto mi riguarda, ma qua entriamo anche in un ambiente, in uno spiraglio un po' più filosofico, se vogliamo, cioè l'obiettivo dell'essere umano per me è essere felici, raggiungere la felicità. La felicità, cioè appunto la felicità dovrebbe essere l'obiettivo primario, poi il percorso chiaramente varia da individuo a individuo, però deve essere chiaro che la felicità portata esclusivamente dai soldi, è molto raro che si riscontri la felicità unicamente con i soldi, anche perché poi queste cose che vengono solitamente vendute, la carriera di qua, lavorativa di là, certo comportano stipendi buoni, cose, ma non è che stiamo parlando nell'ordine dei miliardi, cioè non è che hai il giro di escort ogni sera, cioè non che quello contribuisca alla felicità, però voglio dire, era per quantificare un attimo. Quindi anche qua c'è il senso della vita, ma la vita se per due, ripeto, che siano due, che siano cinque anni, che siano dieci, ma se per questi anni la vita è completamente abnegata al lavoro, completamente al lavoro, lo stipendio, i bonus, e quello che è, lavorando dodici ore al giorno, quindici ore al giorno, dormendo cinque ore a notte, arrivando a trentacinque anni, pippato di ogni sostanza possibile ed immaginabile, ma è definibile vita quella, è definibile vita. Poi, ripeto, ognuno deve trovare per lui qual è il suo obiettivo, se qualcuno mi dice, per me l'obiettivo, ancora più che essere felici, è sentirmi a cinquant'anni a livello di carriera realizzato come persona, io dico, beh, bene, vuol dire che non abbiamo gli stessi obiettivi, però veramente, secondo me, sull'aspetto della felicità, spesso ci si ragiona poco, e non ci si sofferma mai nel periodo, nel momento in cui si è felici, non ci si riesce a godere il momento, e io sono primissimo, è su questo, cioè io sono una persona che storicamente sono incapace di vivermi il momento, cioè sono una persona sempre che pensa al futuro, in ottica spesso anche pessimistica, comunque questo è un altro paio di mani che magari un giorno lo affronteremo, ma che non riesce mai a soffermarsi bene sul presente, sul presente a godersi quella felicità del presente, però perché è molto importante? Perché quando non, cioè, solo cogliendo quella felicità che viviamo nel presente, in quel momento, riusciamo a capire veramente cosa poi ci deve portare, cosa ci sta portando in quel momento a quella felicità, che teoricamente, secondo me, dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi persona nella vita, e allora solo in quel momento riusciamo a capire, ah, ok, per essere felici, allora, vaffanculo questo, devo fare quest'altro. Perché così? Perché così? Perché così? Cioè io veramente, questo è un video soprattutto rivolto ai giovani, che magari iniziano l'università e quant'altro, nella vita, cioè, voglio dire, non sto dicendo che non bisogna lavorare, sarebbe bello, non sto dicendo che non bisogna lavorare, non bisogna fare questo, quest'altro e quant'altro, però fermatevi un attimo, se state facendo l'università, se volete andare a fare questo, quest'altro, fermatevi un attimo e ragionate su quello che più vi rende felici e cercate di capire qual è la soluzione migliore per arrivare a quella felicità. Non entrate in ste mentalità, sti video su Instagram, io adesso Instagram me lo voglio levare, purtroppo il profilo del canale, il privato me lo vorrei levare, Sti Reel, sempre che escono soldi, è adesso vent'anni, ma ragazzi, cioè, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo percorso, non vuol dire che il ragazzo che ha 25 anni e milionario sia più felice di voi, cioè, ripeto, magari è depresso cronicamente, magari invece uno che vive nelle case popolari è una persona più felice di voi, avrà una vita più felice di queste altre persone super nobili e quant'altro. Quindi usciamo da questa dinamica del soldo come unico obiettivo della vita, cioè, il soldo non può mai essere un obiettivo, cioè, il soldo può essere un piacevole mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita, ma chi mi dice che l'obiettivo, cioè, i soldi come la carriera sono l'unico obiettivo della loro vita? Io trovo una grandissima tristezza in tutto questo, un vuoto in queste persone, una mancanza di un qualcosa, ma, cioè, com'è possibile che a queste persone interessi solo ed esclusivamente dei soldi, solo ed esclusivamente delle carriere? Ci sono diecimila cose, ci sono le passioni esterne, che possono essere lo sport, per portare avanti, non solo magari tra i 15 e i 20 anni, ma anche dopo portare avanti uno sport, perché no, che bello, con un ambiente conviviale e quant'altro, passioni che possono essere le più disparate, la pittura, diecimila passioni, pensate a queste cose, che spesso il soggetto in questione che sceglie certe carriere, trascura, trascura, perché non portano al soldo, ma, cioè, interiormente, io sono sicurissimo che anche queste persone che scelgono certe carriere, cioè, c'è per forza un qualcosa che non riescono a tirare fuori, che non vogliono tirare fuori, perché poi rischiano di deludere chi? Ma chi deludono? Deludono poi magari la società, il costrutto della società che si è venuta a formare. E allora io invito veramente oggi a una profondissima riflessione su tutto questo senso di vita, questo anche costante voler fare diecimila cose, cioè, io sono il primo che adesso voglio fare esperienza all'estero e quant'altro, e vedere anche un qualcosa di diverso per capire poi effettivamente dove mi piacerebbe vivere, perché poi alla fine uno dice se non voglio vivere qua, però vorrei anche un attimo capire prima di prendere decisioni definitive, magari. E poi appunto voglio veramente esortare tutti quanti a un coraggio, cioè al coraggio di fare scelte importanti e anche impopolari per la propria vita, cioè che la scelta non deve essere esclusivamente rischiare, ecco, rischiate anche nella vostra vita, rischiate anche nella vostra vita, perché poi magari possono aprirsi scenari inaspettati, scenari belli, scenari brutti, però non abbiate rimorsi nella vostra vita, cioè non abbiate rimorsi del dire, ah no, dovevo rimanere qua, qua ero felice, ma ho voluto cambiare perché lì c'erano più belle prospettive, cioè, poi per carità non vi sto invogliando a mandare a puttane tutto quello che avete costruito, magari perché in un posto eravate più felici in un altro, però veramente ricercate il fondamento per voi della felicità e perseguitelo, perseguitelo perché sennò ve ne pentirete. Ora, vi chiederete il perché di questo video, è un periodo molto molto bello per me, dove sono successe tante tante cose diverse che hanno portato a tante riflessioni, riflessioni già iniziate a suo tempo, ripeto, infatti già certe tipe di carriere già le avevo escluse perché appunto portavano un'oppressione totale della persona. Non sentitevi mai oppressi nella vostra vita e fate ciò che vi rende felici. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che magari qualcuno ne avesse bisogno, se qualcuno non sta passando magari bei momenti o indeciso, sono liberissimo a parlarne e vi ringrazio per l'attenzione. Un bacione, ciao a tutti.